Il mio cane si morde la coda, cosa devo fare? Ciao, sono Marzio Sala, presidente e direttore della scuola per educatori cinofili di Affinity Dog. Oggi parliamo di questo problema che ha diverse collocazioni nella letteratura cinofila ed etologica. Il primo punto fondamentale è che il cane non è aggressivo con se stesso, ma bensì l'origine del suo problema sta altrove. Questo malessere lo dimostra mordendosi la coda, talvolta ferendosi in maniera vistosa, ma questa reazione trova la sua origine nello stress per qualche evento esogeno che lo turba, nella frustrazione e anche nel conflitto. È un comportamento che trovo spesso e volentieri nei cani che hanno vissuto esperienze traumatiche, che hanno vissuto molto tempo in canile, ma per assurdo potrebbe essere anche un modo per attirare l'attenzione del compagno umano. Cambia l'origine del problema ma non la conseguenza dell'espressione comportamentale. Mordersi la coda o tail chasing può avere diverse cause. Può avere una relazione con il compagno umano sbilanciata. Rincorrendosi e mordendosi la coda, il cane chiede l'attenzione dell'uomo per avere un'interazione con lui. Inizialmente si rincorre o morde la coda solo in sua presenza, sino ad arrivare a farlo in maniera compulsiva e generalizzata. Un altro è un fattore ambientale, una vita monotona e priva di stimoli porta il cane a scaricare la sua noia sulla coda. Oppure può essere scatenato da un trauma o appunto, come dicevo prima, da uno stress. Inizialmente il comportamento si dimostra in maniera episodica, magari solo in concomitanza di quell'evento per poi divenire a sua volta compulsivo. Può essere scatenato da causa genetica, infatti uno studio americano ha evidenziato di recente che questo comportamento potrebbe anche essere causato da problemi fisiologici come le lesioni, stimoli di carattere fisico, fino ad arrivare ad alterazioni dei neurotrasmettitori. Può essere causato da una causa neurologica, potrebbe essere un problema a livello neurologico, il tail chasing o mordersi la coda è un'alterazione del comportamento predatorio. Il comportamento comincia con il cane che inizia a ruotare su se stesso, cerca di afferrarsi la coda, la prende e la lecca e la morde, come se fosse un oggetto da prendere o addirittura una preda. Purtroppo se non viene notato con il tempo diventa abituale e compulsivo. Se si è di fronte ad un evento del genere è opportuno chiamare un esperto di comportamento per inquadrare il problema e per improntare un programma di rieducazione comportamentale atto a contenere e risolvere il comportamento sgradito. Spero che questo video vi possa essere stato utile per capire i primi segnali che il cane vi lancia. Seguiteci sui nostri canali social e mettete un like al nostro canale YouTube. Grazie a tutti.